Cari utenti di YouTube, auguro un buongiorno a tutti voi. Faccio questo video per esprimere le mie considerazioni e la mia grande gioia per le immagini che abbiamo visto a Zinasco, in provincia di Pavia, dove la polizia è giustamente intervenuta nel riprimere la sceneggiata che degli esagitati animalisti stavano facendo da ben due settimane, impedendo alle autorità competenti e all'asla di intervenire per la soppressione di maiali affetti da peste fluina. Come penso molti di voi sapranno, la peste suina è una grave malattia che colpisce i suidi e che ne provoca la morte, e da quanto ho letto anche in modo doloroso, estremamente doloroso, contagiando però progressivamente tutti gli altri maiali delle zone circostanti. E' per questa motivazione che vengono fatti gli abbattimenti massicci. E quindi per me è stata una vera gioia vedere la polizia all'opera e reprimere giustamente questi esagitati, come ha detto con l'ammarico che non siamo in altri paesi come gli Stati Uniti o la Francia, dove un commento di Facebook giustamente faceva notare che lì la polizia ha metodi molto più efficaci per risolvere questi problemi. Però è stata una grande gioia, veramente qualcosa di estatico, come posso dire. Perché? Perché è stato simbolicamente il trionfo della ragione e dell'intelligenza e del buonsenso contro il fanatismo e il delirio. Perché la posizione di queste persone è qualcosa di delirante. Perché non è possibile reagire in questo modo per un provvedimento che è giusto, perché in quel santuario sono morti 40 maiali e ne sono rimasti solo 10. Quindi era questione di tempo che anche questi maiali, che loro idolatrano, questi maialoni che praticamente l'unica attività che facevano era quella di incozzarsi, visto che erano di proporzioni enormi, praticamente sarebbero morti anche loro fra atroci i tormenti. E quindi l'asla solo toffa posto fine alle loro sofferenze. Però qui siamo di fronte all'egoismo, a dei capecci, al bisogno esistenziale di rapporti umani che in loro assenza si ricercano addirittura nei maiali. Quindi lascio a voi giudicare il dis... Cioè, siamo proprio oltre la frontiera del disagio mentale. E del resto anche il grande Conrad Lorenz, il più grande etologo della storia, perché colui che ha posto le basi di questa scienza definisce l'animalismo una perversione sociale, e poi farò un video dove praticamente è leggero quello che Lorenz scrive in materia. E quindi... Cioè, ma poi siamo arrivati... Cioè, è qualcosa veramente di folle, di delirante farsi pestare per una causa del genere, e non per le vere cause che affliggono questa società. Per esempio i diritti delle donne, manifestare contro la violenza delle donne, come ho già detto, per i diritti dei lavoratori, non lo so, per la fame del mondo, sacrosante manifestazioni. Invece no, si protesta per dei maiali, per degli esseri che amano soltanto ingozzarsi e vivere in quella che noi napoletani chiamiamo l'Ota, l'Utamma, che spesso siamo anche in senso dispregiativo, ossia il fango unito alla merda. E quindi ditemi voi, cari utenti di YouTube, dove siamo arrivati. Ma poi il dare nomi a questi maiali come se fossero delle persone. Cioè, io veramente non lo so, i nostri nonni, i nostri bisnonni, i nostri antenati, se benessero dove siamo arrivati, si staranno rivoltando nelle loro tombe. Bene, con queste considerazioni vi auguro un po' proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti voi.